Elisabetta Canalis, la figlia un messaggio per Ronaldo. Gesto inaspettato da parte di Schilereva, la figlia di Elisabetta Canalis. La bambina. Che ha solo 7 anni e vive a Los Angeles con l'ex velina di striscia la notizia il marito Brian Perry. Ha manifestato pubblicamente tutto il suo amore per Cristiano Ronaldo. La piccola ha scritto il nome del campione portoghese sulla sua maglietta lasciando senza parole la famosa madre. Ma ti piace Ronaldo, ha chiesto la subred Sarda. Sì, più di Messi. Ha replicato la sua erede. Ronaldo il messaggio della figlia di Elisabetta Canalis che le reva e inoltre scritto un biglietto per Cristiano Ronaldo. Che Elisabetta Canalis ha mostrato ai suoi oltre 3 milioni di follower sparsi in tutto il mondo. Ronaldo is better than Messi. You're the best Ronaldo, ha evidenziato la bimba. Ovvero, Ronaldo è migliore di Messi. Sei il migliore Ronaldo. E chissà che non arrivi presto una risposta da parte di CR7. Virgola.